Domenica alle 20 e 30 su TV 2000 In Italia ci sono arrivato da bambino ma sono figlio di due migrazioni Non mi compiaccio della mia spigolosità, la considero un difetto L'infedeltà ha molto a che fare con la fede, con i suoi dubbi, con le sue lacerazioni Adeguare il tuo linguaggio, adeguare il tuo approccio alla forma mentis degli altri Questa è per me anche una lezione di giornalismo Alla nostra età bisogna imparare la saggezza Benvenuti ai nostri ospiti Fernando, un saluto a te Oggi abbiamo un personaggio Un personaggio che incarna perfettamente quelli che sono gli scopi della nostra trasmissione Ossia sostituire al gossip la testimonianza Al pettegolezzo la confidenza e la sincerità che può nascere da un colloquio a tu per tu E chi è questa persona? Alla cui si chiama Gad Lerner Buongiorno Un ingresso teatrale che non mi merito Questa trasmissione intanto grazie di essere venuto Grazie a voi L'intento di questa trasmissione non è solo di fare conoscere dei professionisti affermati Ma soprattutto la strada che hanno percorso La sua è una strada dritta e facile O è stata una strada tortuosa e accidentata? Innanzitutto è stata una strada fortunatissima Bisogna sempre ricordarselo Non compiacersi e vantarsi dei propri meriti Perché sappiamo che abbiamo avuto molto di più di quello che ci meritavamo E che tanti altri non hanno avuto quello che abbiamo avuto noi Soprattutto nel caso di chi appunto questa strada l'ha fatta attraversando dei mari, dei continenti Perché in Italia ci sono arrivato da bambino ma sono figlio di due migrazioni Non una soltanto E quindi è particolarmente strano che io mi trovi a fare il giornalista in Italia E che la lingua italiana sia diventata la mia lingua madre Ecco non era affatto scontato è ovvio Noi sappiamo anche che la fortuna va aiutata Se no cade Lei fin da bambino ce l'aveva il sogno di diventare giornalista o è venuto dopo? Io avevo il sogno di fare dell'italiano davvero la mia lingua E dell'Italia davvero la mia patria Perché con questo nome strano che mi ritrovavo Con il fatto che a scuola Gli elementari Quando i miei compagni Dicevano il Padre Nostro e l'Ave Maria E si facevano il segno della croce Io stavo in piedi sull'attenti giustamente Perché rispettavo la loro preghiera Ma non era la mia Ecco sentirmi come gli altri Parte integrata di una comunità Era per me molto importante Le prime formi di giornalismo che ho praticato Erano nella vasca da bagno dove ci buttava mia madre Io e mio fratello Facevo le radiocronache di tutto il calcio minuto per minuto Poi ho conosciuto Sandro Ciotti molti anni dopo Ed è stata un'emozione straordinaria E quando ha cominciato a scrivere? La lotta continua Che era un bel quotidiano Io militavo dentro a questa organizzazione Nella seconda metà degli anni 70 Veramente anche un po' prima Poi si è sciolto il gruppo L'organizzazione Mentre sopravviveva questo giornale A quel punto anche piuttosto libero Dagli obblighi di dettare una linea politica Di essere portavoce Di qualcuno E quindi è diventato un luogo anche di ricerca Di inchiesta Molto alternativo Ma che secondo me ha anche Proposto in Italia dei linguaggi E un rapporto con la realtà Più vivo di quello che la stampa ufficiale C'è stata un'evoluzione anche nel suo pensiero Di scrittore, di giornalista Spero di sì Sarebbe grave il contrario Allora le faccio una domanda in un altro modo Ci dica Quali sono i punti di questa evoluzione Io per la verità Man mano che mi sono trovato a fare il giornalista Per caso Perché se me l'avessero detto appunto Quando scrivevo su Lotta Continua Che io avrei fatto il giornalista L'avrei considerato un'offesa Perché diciamo Ma come? Noi siamo militanti al servizio Di una causa Noi vediamo nel giornale E nel giornalismo Quindi uno strumento per trasformare la realtà Per seguire la giustizia sociale Non lo consideriamo un mestiere Sarebbe stato offensivo per noi Anzi ricordo che ricevute delle offerte di lavoro Da ottimi giornali e da ottimi giornalisti Le avevamo respinte come un tradimento Non si può andare a lavorare per la stampa borghese Per cui ci sono veramente arrivato per caso E mi succede Mi scusi se praticamente inverto il senso della sua domanda Io avverto molto spesso il bisogno contrario Cioè di vedere quanto sono rimasto legato A quella intenzione iniziale Quanto sono rimasto coerente con me stesso Dando per scontato che come ovvio Tante idee schematiche Si sono rivelate fallaci Tanti errori sono stati compiuti Ma quanto di quella spinta Al giornalismo c'è ancora dentro di me Ora che ho i capelli bianchi Io cerco di consolarmi dicendo che qualcosa è rimasto Qual è stato il primo approdo Al grande giornalismo Al grande giornalismo Lotta continua Non voglio come dire Sto scherzando Sto scherzando Perché voglio dire che Considero appunto che ci sia Una continuità Di avere appreso Anche da quel luogo oggi Considerato imbarazzante O da nascondere Al contrario È stata una scuola di vita per me Si faceva molta fatica E poi sono stato In tanti grandi quotidiani Sono stato prima all'Espresso Per otto anni Quindi un settimanale Nel quale ho avuto la fortuna Di poter viaggiare Di poter fare dei reportage La televisione è arrivata Davvero per caso Perché non avrei mai pensato Con questa faccia Con l'aereo e borsa Diventare numero uno Direttore generale Ma quello per pochi mesi Direttore al Tg1 sono stato E poi direttore al Tg della 7 Ma non faceva per me evidentemente Perché ci sono stato pochi mesi Sia in un luogo che nell'altro Della Rai Ho un bellissimo ricordo Ma quella Rai lì Oggi Sinceramente non ci tornerei volentieri E da vecchietto Come mi considero Andando per i 57 anni Credo che Dobbiamo smetterla Con questa ipocrisia Per cui Definiamo Come dire Mezza età Quella che è già Oltre la metà Non lo dico a me Sono Molto felice Di aver Come dire Trovato pace Nella mia requietezza Stando Per più di 10 anni Ormai Nello stesso luogo di lavoro Che è la 7 E averla veduta Prima Quasi scomparire Perché era un progetto Nato E poi immediatamente Dirottato Sopito Un po' Imbavagliato Diciamolo pure E però Pian pianino L'abbiamo riproposto Era un'idea giusta Di pensare in Italia A una televisione diversa Fuori dai due grandi Network Vederla oggi Realizzarsi Con successo E forse La soddisfazione Da vecchio Che uno si è elevato Questo vecchio Credo che sia Abbastanza improprio In ogni caso Qual è il valore A cui lei è affezionato E che nel tempo È rimasto Appunto Adesso Siccome non è un vezzo Per farmi dire No ma non sei vecchio Non voglio farmi consolare Io penso davvero Che alla nostra età Bisogna imparare La saggezza Però La saggezza La impari E poi magari La insegni anche Se l'hai imparata E se la vivi Cerchi di trasmetterla Ai tuoi figli E anche Nel lavoro A quelli che vengono Dopo di te Ai più giovani Se prima Hai saputo Anche adottare Il rischio A me è capitato Diverse volte Di lasciare Dei posti Di dimettermi Al buio Citavate Il caso Del Tg1 E nonostante Appunto Io abbia Famiglia numerosa E anche Piuttosto viziata Perché Essendo un uomo fortunato Li ho abituati Al benessere Lasciare un posto Senza sapere Se ne troverai un altro Non è simpatico Però I rischi Che mi sono preso Nel corso della vita Mi sono stati Tutti ripagati Questo davvero è fortuna Perché non era scontato Che accadesse In effetti Io ricordo Questa sua iniziativa Rischiosa Era proprio Un'iniziativa Un po' singolare Diversa Dai comportamenti Abituali Non credo Che sia La fortuna A ripagare Ma che sia La chiarezza Di punti di vista Di idee Di obiettivi Da raggiungere Io la fortuna La vedo come Fatta venire Non semplicemente Aspettata Almeno Questo è il mio punto di vista Sa su che cosa uno Si sente rassicurato In quei momenti lì Dalle persone Che ha intorno Io ricordo Che quando Si scatenò Quella bufera Sul Tg1 E nel mondo Della politica In tanti Da più parti Dicevano Prima se ne deve andare Si vergogna Eccetera Ricevetti una telefonata Dalla sala stampa Del Vaticano Di Navarro Valls Il portavoce Di Giovanni Paolo II Che mi disse Guarda Gad Tu che hai chiesto Scusa in diretta Durante il telegiornale Per le immagini Inopportune Che erano state Trasmesse Contro la tua volontà Hai già fatto Quello che dovevi Io oggi Farò una dichiarazione Pubblica Che appunto Secondo me Tu devi restare Poi Il consigliamento Della RAI A sua volta Mi chiese Di restare Respingendo Le mie dimissioni Io mi sono sentito A quel punto Davvero libero Di decidere Posso andare avanti A fare il lavoro Serenamente Come prima Con Questo clima Che si è creato Oppure Posso fare Di meglio Altrove A questo punto Avere intorno Questo tipo Di sostegni Trasparenti Mi ha molto aiutato Anche nel fare Una scelta Di incertezza Ecco Io questa Non la chiamo Fortuna La chiamo Chiarezza Lealtà E libertà E in questo caso Immagino che anche La famiglia Avrà giocato un gioco Un ruolo molto importante La sua famiglia Unitissima Con Con cinque figli La signora La famiglia era Molto favorevole Perché La famiglia era Piuttosto convinta Che se fossi rimasto Per diversi anni A Roma A Saxarubra Si sarebbe sfasciata Alla famiglia Perché la famiglia Stava all'epoca Torino Si è poi Preferita A Milano Quindi Poi è una famiglia Complessa Diciamolo In una tv Cattolica La mia è una famiglia Allargata Non tutti Sono figli Dello stesso matrimonio Ma sono cinque Sono cinque Molto uniti tra di loro Noi diciamo Scazzando un branco E il fatto che Non necessariamente Attraverso la consanguineità Ma attraverso L'amore Si sia creato Questo legame Per noi Diciamo È il più grande successo Della vita Non le hanno fatto paura Questi episodi Dove si è costretti A lasciare il posto di lavoro C'è qualcos'altro Che l'ha impaurita di più Nel corso della sua professione? Sì Mi sono reso conto E non mi è mai piaciuto Di poter essere detestato Di poter risultare Sgradevolissimo A una parte Di coloro Che mi seguivano Ho cercato di Spiegarmi Perché questo mi è sempre Dispiaciuto davvero Non mi compiaccio Della mia spigolosità La considero un difetto E soprattutto perché Considero che La parte più affascinante Del mio lavoro È quella che Consiste Nel sapersi mettere Nei panni degli altri Io voglio ragionare Come un leghista Vogliamo dirlo Per fare un esempio Seguo Dall'inizio degli anni 90 Le vicende della Lega Nord Per televisione Se la carta stampata E Molto spesso Come dire Contrapponendomi Proprio su un piano Etico e culturale Però Penso che sia fondamentale Capire perché Sono così E che cosa Vedono in me Questo Apolide Cosmopolita Mezzo straniero Mezzo Terrone Perché è nato Sulla sponda sud del Mediterraneo Immigrato Che però Ragiona In una logica Globalista Mondialista Sono le parole Che spesso Sento Bisogna Come dire Entrarci Nelle teste Di quelli Che la pensano Diversamente Mi ha aiutato Moltissimo In questo Da qualche anno Il blog Che ho aperto Sul quale ricevo Caterve di insulti Critiche Obiezioni E se uno Li scava Si accogge Che molto spesso Tu Avevi un'intenzione Tu Hai fatto La trasmissione Dell'infedele Impostata in quel modo Pensando Di dare un certo messaggio Però veniva capito Molto diversamente E spesso Per colpa mia E quindi Adeguare il tuo linguaggio Adeguare il tuo approccio Alla forma Mentis Degli altri Questa è Per me anche Una lezione di giornalismo Però Il punto di partenza Tornando alla sua domanda È che Ti fa paura L'incomprensione Degli altri A questo punto Abbiamo Tra il pubblico Una persona Che lei conosce Bene da Non so da quanti anni Credo Io sono lo smemorato Tra i due Ci conosciamo Da quasi 40 anni Che è l'unico motivo Bello per invecchiare Poter dire Siamo amici da 40 anni Tutti gli altri Spero che non ti danneggi A Mediaset Dichiarare la nostra amicizia La conoscono Gal si è rappresentato così bene Che a me toccherebbe fare Quello che guasta un po' I giochi Però non me la sento Perché Sentire raccontare Di quegli anni Che in parte Abbiamo vissuto insieme Quelli della sua giovinezza Della sua militanza In lotta continua Come giornale Mi ha ricordato una cosa Che è una cosa Che non ho mai detto Io considero Gad Una delle persone Più coraggiose Che abbia mai incontrato E parlo anche Di coraggio fisico E so che No 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 Siccome in quegli anni Andava molto di moda Un po' il macismo Della gente che mostrava i muscoli E mi è tornato alla mente Un episodio Che è l'intervista Che Lerner Fece Al figlio di Casalegno Pruscidato dalle Brigate Rosse Ecco quello fu un atto Di coraggio Anche fisico Secondo me Perché quell'intervista In cui veniva denunciato E veniva per una volta Tracciato un sorco Fra la sinistra E le Brigate Rosse Era una cosa Che poteva portare anche Delle conseguenze fisiche A Gad Infatti fu molto Molto criticato E quel coraggio lì È una cosa Che lui non ha mai abbandonato Anch'io penso Che la sua Non sia una questione Di fortuna È la sua È la storia Di una persona Coraggiosa Che non ha mai barattato Come dire La convenienza Per sia le idee E sia la coerenza Che ha sempre professato Diciamocelo chiaro Noi abbiamo avuto Una sventura Lui molto più di me Di essere nati Negli anni del 68 Di essere stati adolescenti Perché una sventura? Ci siamo Te lo dico subito Che non siamo riusciti A laurearci Perché eravamo troppo Impegnati a fare casino Nelle università Abbiamo perso Tutte le occasioni Ma voi Volete soltanto pensare Se Lerner Fosse entrato 22-23 anni In un giornale normale Altro che direttore Oggi sarebbe chissà che cosa E invece ha sacrificato Ha l'interesse E la curiosità E il coraggio E il coraggio Quello che voleva fare Il coraggio è anche mentale No Quando mi avete chiesto Di indicarvi un amico A me è venuto naturale dire Graziano Perché per me è De Franco Deve sapere Devi sapere Che da quando Lui si prese Degli improperi Lui ha lavorato con me A Pinocchio Da un illustre Politologo Che avevamo forse Maltrattato in trasmissione Mi ha telefonato Un certo Di Franco Da allora Si porta dietro La maledizione Del Di Franco Invece è De Franco Ci tiene È una misa Ma è un gioco tra di noi Il lavoro sporco Lo facevano fare Lui faceva il lavoro sporco Credo che sia la prima volta Che si mette Un collarino Nonostante che lavori In televisione Abbia fatto Milano Italia Pinocchio Non amo a parire Tanti altri Talk show E adesso lavora Studio aperto Ma Dicevo Che per me È il sinonimo Di amicizia Perché E nello stesso tempo Di quella Parte Dell'amicizia fondamentale Che è La certezza Della lealtà reciproca Io so che Graziano Con me Potrebbe essere Insomma È la generosità Insomma La generosità Che è il valore Dell'amicizia Ma avete modo Anche di frequentarvi Durante l'anno Insomma Poco adesso Però sappiamo Che Ci siamo l'uno per l'altro Le frequentazioni con Graziano All'inizio erano piuttosto Fastidiosi e invadenti Io ricordo Non so che anno Settanta fosse Che quando finalmente Mi sono emancipato E ho avuto la mia Mansarda In via Rimembrance Di Lambrate A Milano Nella casa di Ringhera E mi sono comprato Con i soldi del mio primo lavoro Un materasso Non avevo ancora letto Ma avevo Un bel materassone Matrimoniale Su cui dormia per terra E andava bene Perché il tetto Era molto spiorente Quella sera L'ho sciagurato Mi mandò in casa Un batterista Che arrivò Con la batteria Che mise Nella stanza E il batterista E vi giuro Che qui non c'è di mezzo Nessuna Questione Di coppie gay Ma il batterista Molto villoso Venne a dormire Con me nel letto Perché non sapeva Dove andare a dormire Questa fu Come dire Il primo regalo Che ho ricevuto La raccontata così Sembra che negli anni 70 Abitassimo chissà dove Non era un ammassado Era un sottotetto Senza riscaldamento Con il bagno esterno In cui Il cesto su ballatoio Si dice A Milano E aveva anche il vetro rotto Che veniva ceduta Man mano che le generazioni Di universitari Ottenevano la laurea La cedevano Come veniva ceduta La affittavo io E tu mi hai infilato in casa Il batterista E c'era anche un ragazzo Di origine albanese Ahmed Era comunque Era una casa molto bella Molto piccola Si dormiva in tre Lui non se lo ricorda Ma dovevamo entrare Nel materasso Perché Ci tenevamo caldo Faceva troppo E fermiamoci qui Chi faceva da mangiare Ahmed direi Era più bravo Una bucana tradizione calabrese Sì ma in realtà Mangiavamo quasi sempre fuori Nelle messe universitarie O nelle trattorie Da poco conto Quando raramente Saltava fuori qualche lina Devo dire che sia Gatti che io Amavamo andare In qualche ristorante Che poi era un ristorante In modestia Ma noi sembravano Il non plus ultra Per noi il massimo Era andare Esiste ancora Al tumbù di San Marche Vicino al liceo Parini Dove Di fianco al Corriere della Sera Aveva la birra inglese Esatto Dove si spendeva Parliamo degli anni Prima di anni 70 1200 1300 lire Quello era un po' Il nostro sogno Ci sembrava di andare In vita Quando potevamo permettere A proposito di Amicizie generose In quel periodo lì Ricordo Quelli a cui Si scorcavano i pranzi Nei ristoranti buoni Ne voglio citare due Che non ci sono più Walter Tobagi E Guido Passalacqua Un giornalista Del Corriere della Sera E un giornalista Della Repubblica Non ci sono più Io non so quanti Io non so quanti pranzi Gli ho scroccato Molte delle notizie Il 90% delle notizie Sono state prese Dal tuo splendido libro Scintille Un libro che Già due anni fa Quando lo lessi Mi colpì particolarmente Proprio per il tono Assolutamente autentico Della scrittura Senza nessuna ricerca Di stilistica Di scavo Ma assolutamente Sincero Trasparente Autentico E pieno di sentimento Di sentimento Veramente profondo Di questo Contatto Ricerca di contatto Con i propri genitori E se sei d'accordo Farei leggere Una pagina stupenda Che fa un po' Da incipit A tutto Il tuo scritto Grazie Francesca Sarrecchia Giovanissima Attrice Onora tuo padre E tua madre Prescrive il comandamento Affinché si prolunghino I tuoi giorni Nella terra Che il Signore Tuo ti dà Sono consapevole Di aver violato La più ovvia Delle leggi naturali Che impone il rispetto Là dove non bastasse L'istinto d'amore Verso i genitori Ma rileggendo ora Nella lingua biblica Con la frase scolpita Sulle tavole del Sinai Mi colpisce un dettaglio Di non poco conto Il verbo imperativo Kaved Con cui esordisce Il comandamento Significa letteralmente Dai peso A tuo padre E tua madre In ebraico La parola Kaved Da cui deriva Quel Kaved Significa di fatti Pesante Non siamo tributari Al padre E alla madre Di una nozione retorica Ad onore E di gloria Come la traduzione Potrebbe indurre E equivocare Siamo invece tenuti A dare ai genitori Il loro giusto peso La dovuta importanza Non trattare con leggerezza Tuo padre E tua madre Se vuoi prolungare Una vita degna E consapevole Sforzati di comprenderli Anche in ciò Che non ti hanno trasmesso Solo così Ti rappacificherai Chiedo scusa Al papà E alla mamma Dunque Se in taluni punti Apparirà sgradevole Ma il mio È racconto Di un'incomprensione Non ho atteso La vostra morte Prima di scriverlo Perché la vostra infelicità Si è consolata Almeno dal sapere Che vi ho dato peso E dopo essermi messo In cerca di quel Che vi è accaduto Senza che neppure Riusciste a spiegarlo A voi stessi Ora vi rispetto In realtà questa pagina Iniziale di Scintille È una foglia di fico Scritta Dopo averlo tenuto Nel cassetto Quel libro Per un po' Chiedendomi Se fosse giusto O meno Pubblicarlo Sgradevole Com'era Sottoponendolo Alla lettura Di mio padre E di mia madre E volevo Giustificare Perché Sentissi necessaria Una operazione Di questo tipo Di fare i conti Con i miei genitori E con Le nostre Incomprensioni E con Tutte Diciamo Le storie Non dette In famiglia Che però Erano dietro a queste infelicità A queste incomprensioni Quando all'inizio Facevamo riferimento Alle migrazioni Da quella che oggi è Ucraina La Galizia ebraica Di prima della Shoah Dello sterminio Fino La Palestina E poi la Siria e il Libano E poi da lì Dal Medio Oriente Fino in Italia Ecco C'è chi In questi viaggi Se la cava E trova Serenità E benessere Ma per Per uno Al quale va così bene Ce ne sono intorno tanti Sovrastati Dalla fatica Vedo qui Una Una mano alzata Dal pubblico Prego Volevo chiederle Visto che comunque Abbiamo già Sappiamo che Le proviene da una cultura ebraica Volevo appunto chiederle Quanto vive lei Questa cultura E in quanto La trasmette I suoi figli I miei figli Sono Figli Di Un matrimonio misto Anzi di due Matrimoni misti E sono tutti e cinque Convertiti all'ebraismo Per Scelta Consapevole Delle loro madri cristiane Entrambi E' una scelta Meditata Accompagnata Anche da un impegno Di educazione Ebraica In famiglia Altrimenti Questa conversione Non sarebbe Stata Possibile Ma peraltro Neppure ammessa Dai rabbini Che l'hanno Approvata Per me Questo E' importantissimo E' una fonte di grande Gioia E serenità I primi Quattro Hanno già La maggiore età ebraica Che per le donne A 12 anni Per i maschi A 13 anni Hanno fatto il bat mitzvah Il bar mitzvah Si appresta a farlo Il più piccolo Che ha 12 anni Ma il marzo Del 2012 Anche lui diventerà Un ebreo adulto Responsabile Del suo destino Delle proprie scelte Davanti al Signore E Questo Mi è sembrato importante Trasmetterglielo Uno dei motivi Per cui Ho scritto quel libro Più che fare i conti Con i miei genitori Che poteva avere anche Come dire Un intento ambiguo Se non la dito a vendicativo Brutto Ma invece era Spiegare ai miei figli Perché Sono fatto così Perché Sono anche spigoloso E antipatico magari Ma Quali storie ci sono dietro E tra queste storie C'è il destino Del popolo ebraico E c'è Un Mio Continuo Bisogno Di Interpretare Anche La Torah I filoni di ricerca Della mistica ebraica Per spiegare Come siamo diventati Senta Io credo che Quel libro Che le ha tirato fuori Dal cassetto Quindi Ha impiegato Tempo Per decidere Di farlo conoscere Non serva solo I suoi figli Ma serva A tutti coloro Che hanno un conto aperto Con i genitori Vorrebbe aggiungere qualcosa Per queste persone Che hanno conti aperti Anche dopo aver letto Quel libro Volentieri Perché Mi è capitato Effettivamente Di ricevere Molte lettere Molte mail Poi adesso ci sono Facebook Molti messaggi Insomma Di persone Che hanno vissuto Un processo Di identificazione Perché tutti Scusate il termine Ma tutti abbiamo Casini in famiglia Non è vero Che ci sia L'idilio E l'istinto Che da solo Basti A risolvere Le difficoltà Della relazione E esplicitare Le contraddizioni Le lacerazioni Dirsele Fare i conti In particolare Con i propri genitori È secondo me Fondamentale Perché quando Non ci saranno più Rimpiangeremo Di non avere Sviluppato Questa consapevolezza E sarà un pessimo Esempio Per i nostri figli Se lasceremo Che la morte Ci separi Senza Escerceli detto Senza avere fatto Lo sforzo Di chiarirci Penso che su questo Ci sia Un intervento Salve Io volevo sapere In realtà Una cosa che esula Un po' Da questo argomento Partendo appunto Dalla sua situazione Dalla sua storia personale Dalla condizione Di apolide Immigrato Quella accennava Prima Qual è la sua opinione Tra La società Tra la relazione Della società odierna Con l'immigrazione Attuale E Qual è appunto La sua opinione Guardi Io le dico una cosa Pazzesca Che siamo ancora Oggi Nel 2011 2012 A dover Approvare In Italia Una legge Che renda Certo Il percorso Di cittadinanza Ad esempio Per bambini Nati qui Da genitori stranieri O arrivati qui In tenerissima età Che hanno frequentato Le nostre scuole Potrete dire Che è normale Io trovo di no Che uno come me Che è arrivato All'età di tre anni Da Beirut Nel 19... Alla fine del 1956 All'inizio del 57 Poi ha acquisito La nazionalità italiana Nel 1984 Cioè Praticamente Mi pare che sia Quasi 30 anni dopo 32 anni dopo Sì Una cosa ridicola No? L'ho chiesta più volte Più volte mi è stata respinta Sono stato Per tutto questo tempo Diciamo Fino ai 30 anni Sono stato È bello a dirsi Sembra esotico Apolide Ma vi assicuro Che è una noia mortale Insomma È una fatica Improba Gestire La condizione Di essere Senza cittadinanza Senza nazionalità Ma diciamo Che eravamo in pochi All'epoca Non c'era L'esperienza Che invece c'è Negli Stati Uniti In Gran Bretagna Dove è normale Definire Tempi certi Procedure Uguali per tutti Risposte pronte Della burocrazia Moduli Che arrivano Per tempo Senza fare la fila Invece Siamo ancora lì Che abbiamo Dei Diciottenni Che acquisendo La maggiore età Diventano Clandestini In Italia Perché Non sono accettati Come cittadini italiani Anche se sono nati In questo paese È una vergogna Senti Hai parlato Di Beirut E di Beirut Sei Penso Continua A essere Innamorato Tu l'hai definita Terra di paradiso Cosa c'ha di straordinario Beirut? Proprio paradiso Hai scritto tu Sì sì Ma è un È È una terra di beatitudine Affacciata però Sull'abisso Perché Sotto quella terra Ci sono le fosse comuni Di una delle guerre civili Più cruente E crudeli Del novecento Perché dal 1975 Al 1990 Lì si sono scannati Si sono scannati Cristiano Maroniti Con le loro falangi Contro i drusi Contro i musulmani sunniti C'è da dire a loro onore Oggi Abbiamo paura degli Hezbollah Che gli sciiti All'ipoca Furono gli unici A restare fuori Da questo macello All'epoca E se ne vantano oggi Dicendo Noi Non abbiamo versato Sangue libanese Mentre gli altri Si massacravano Nel nome Del loro clan Ma ahimè Anche nel nome Della loro chiesa O della loro fede Perché questo succede Tutto questo però Sta sotto Piuttosto rimosso A una terra di meraviglie Effettivamente Raffinata Bella Elegante Con un'energia vitale Straordinaria E forse anche con l'illusione Che questa vitalità Possa Farci dimenticare Quello che è stato Un fenomeno Tipico Da quelle parti Ma credo anche che La lezione Di quella terribile Guerra civile Abbia insegnato Lo diceva Giovanni Paolo II Quando andò in visita A Beirut Il Libano è un messaggio Disse È un messaggio Perché è un paese Nel quale ci sono Non si sa bene Se 17 o 18 Diverse Confessioni Comunità Che devono Vivere insieme Non possono Non può immaginarsi Un Libano Che non sia plurale Un po' come Comincia a succedere Anche nelle nostre Metropoli Volevo sapere Come mai La scelta del Magnificat Per una trasmissione Televisiva Oltretutto Che si intitola L'Infedele Perché Siamo tutti Infedele La risposta più banale È che il Magnificat di Bach È una musica Meravigliosa È una musica Incantevole E ogni volta Che andiamo in pubblicità A poterci andare In quel modo Come dire Mi riscalda Il cuore E poi perché L'Infedeltà Ha molto a che fare Con La Fede Con i suoi dubbi Con le sue lacerazioni Noi ci siamo dati Quel nome Autoironico E l'Infedele Per primo So di esserlo io Proprio perché Chi si fa Le domande Chi cerca Una relazione Con il trascendente Chi Si sforza Di fare Anche Dell'introspezione Sempre lì Finisce A scoprirsi Anche Infedele Credo che Persino In quel In quel canto In quel momento Fondamentale Del Del Vangelo Ci sia il dubbio C'è il dubbio Che serpeggia Serpeggia dentro di noi E Riconoscerlo Non è un segno Di debolezza Semmai di umiltà La tua fede È Certamente Molto molto forte Non credo Ma Tu stesso Hai detto che Hai avuto Delle D'esperienza Non Propriamente Positiva All'inizio Nell'imparare Diciamo I principi Della tua religione Però Che hai sempre Conservato Un rapporto Tuo Diretto Con Dio E che preghi Molto in solitario Sì Infatti Non credo Che il luogo Adatto Per parlarne Sia Una telecamera Con la lucina Accesa Mi mettete Abbastanza In imbarazzo Credo Che La fortuna Dell'esperienza Ebraica Consista Esattamente Nell'immaginare Sempre E comunque Un rapporto Personale Diretto Con il trascendente I conti I conti Li devi fare Tu E anche La legge E anche Invece Il racconto Della Torah Esistono Perché tu Li possa Interpretare E noi Andiamo avanti Da millenni Ad accapigliarci I libri Sacri Successivi Alla Torah Alla Bibbia Cioè Il Talmud Babilonese O di Gerusalemme Altro non sono Che un insieme Di controversie Di dispute Rabbini Che su ogni Episodio Della Bibbia Danno mille Interpretazioni Diverse E si accapigliano E ognuno Cerca la sua Per cui è un rapporto Che implica La nostra responsabilità diretta Una pagina bellissima Di Scintille E quando tu Descrivi Ti sei messo A ricopiare Quella splendida Preghiera Kaddish Kaddish Che dicono Per i morti Non è tanto splendida La pagina Perché è la pagina In cui denuncio La mia ignoranza Il mio analfabetismo Perché dovrei Saperlo a memoria E non lo so a memoria Il Kaddish Sono un Analfabeta Che quindi Parlo No Sono un analfabeta In senso tecnico Io parlo l'ebraico Come lingua madre Ma lo parlo normalmente Ma lo leggo Come un bambino Di prima elementare Comunque adesso te lo ricorda La nostra Francesca Che ci fa gustare Questa stupenda Pagina Della cultura ebraica Della religione ebraica Kaddish Magnificato E santificato Sia il suo grande nome Nel mondo Che egli ha creato Secondo la sua volontà Posso aggiungere Il suo regno Nelle vostre vite E nei nostri giorni E nelle vite Di tutta la casa D'Israele Presto E in un tempo vicino E dite tutti Amen Amen Sia benedetto Il suo grande nome Per l'eternità E per l'eternità Dell'eternità Benedetto E lodato E glorificato Ed elevato Ed esaltato E onorato E sublimato E lodato Sia il nome del Santo Sia benedetto Sopra tutte le benedizioni E inni E lodi E consolazioni Pronunciate in questo mondo E dite tutti Amen Possa una grande pace Dal cielo E una buona vita Scendere su di noi E su tutto Israele E dite tutti Amen Possa colui che stabilisce La pace Nei suoi luoghi eccelsi Stabilire la pace Su di noi E su tutto Israele E dite tutti Amen Quello che noterete Di straordinario Nel Kaddish È che la preghiera Che si recita Per i defunti Non ha nessun riferimento Alla morte Ma è un inno Alla vita Infatti Mi hai strappato La domanda Perché Volevo dirti appunto Che È Esalta La magnificenza Del Signore Ed è piena di speranza Nel futuro Sì Nello stesso tempo È la consolazione Di poterla dire Nel caso di un congiunto Il dovere È prescritto Di ripeterla Ogni giorno Per un anno A me è capitato Che Avendo saputo Che tornavo in Libano Io che con il passaporto Italiano Ci potevo andare David Grossman Mi ha chiesto Mi ha chiesto Di Di passare dal luogo In cui è stato Ucciso Suo figlio Durante la guerra Del 2006 Uri E con l'aiuto Dei soldati italiani Lo abbiamo trovato Quel luogo E Così Lui ha sentito La consolazione Che un Kaddish Sia stato pronunciato In quel luogo Per Uri Con cui gli ufficiali Italiano Che ti ha fatto da guida E con cui sei rimasto Poi amicissimo Adesso è nello stato Maggiore delle forze armate Non avrei mai pensato Parlavamo di lotta Continua all'inizio Di diventare amico Fraterno Di un generale Parà della folgore E invece è andata così Passiamo Amico Amico Questo aspetto Mettersi a nudo E poi ci voglio chiedere Che ho detto prima Che ho detto prima È che riesce a essere Più scorbutico E brontolone Di me E quindi mi fa sentire Dolcissimo Come vi è chiaro È totale dissenso Sulla superbia Perché Credo che sia viceversa Una utile prova Di umiltà Quella di Non vergognarsi A dichiarare Le miserie Le vergogne Della nostra vita Ce le abbiamo tutti Certo Non è questo Che metto in discussione E renderle pubbliche Sì A proposito del Mettersi a nudo Viceversa Lui appunto È testimone Vabbè L'ultima volta Che quando siamo stati In Israele Insieme È stato questo episodio Un po' divertente In cui come dire Lui si è veramente Messo a nudo Però abbiamo fatto Una gita nel deserto Molto interessante Ma siamo andati A fare Pinocchio Dalle mura Di Gerusalemme Sì Finita quella esperienza Poi ci siamo presi Una breve vacanza E mentre eravamo Con questa guida In jeep Nel deserto Ho detto Ma perché non andiamo A fare il bagno Sul mar morto Ma siamo senza costume Ma no Lo troviamo lì Lo compriamo lì Quindi io Lui E c'era anche Un altro grande Nostro amico Lorenzo Maiello Siamo precipitati Sul mar morto Il primo stabilimento Ovviamente Non vendevano Costumi da bagno Ho detto Vabbè Lo faremo In mutande E non vendevano Ciabattine Questo poi capirete Perché Andiamo a cambiarci Usciamo Dallo spogliatoio Io e quest'altro amico Con dei boxer Più che decenti E Gad invece Degli orribili Slip Slip Tipo Kaji E in quell'istante Arriva Una comitiva Di bergamaschi E comincia a dire Guarda Guarda il Pinocchio Nudo In mutande Allora abbiamo fatto Una corsa Per arrivare al mare Ecco Voi non avete idea Di quanto è bollente La sabbia Del mar morto Ci siamo ustionati I piedi Ma non ci siamo fermati A parte che io e l'altro Continuavamo a ridere Beh anche Gad E finalmente ci siamo buttati In acqua La vera notizia è che Da quel giorno Non ho mai più indossato Slip Sempre boxer Questo fosse Allora passiamo Dall'amico A una minaterice Del pubblico Salve Io invece volevo sapere Volevo chiederle Qual è il suo rapporto Con la Chiesa Cattolica Il mio rapporto Con la Chiesa Cattolica È fatto di Diciamo Di rettico Varie Vari momenti Potrei Dirvi che Mia moglie Lavora Alla casa Della carità Di Milano Fondata da Don Virginio Colmegna Su volontà Del cardinale Carlo Maria Martini E che quello È per me Un luogo Una casa D'accoglienza Nella quale però Si sviluppano Anche ragionamenti Sulle politiche sociali Ai quali partecipo Appassionatamente Con Don Virginio Con Massimo Mapelli Quando vivevamo a Torino Lavorava con Don Luigi Ciotti Quindi siamo lì E ci siamo capiti Qual è l'ambiente Qual è il giro Potrei dirvi Che Considero Tra gli amici Più cari Che ho Il direttore Di questa televisione Dino Boffo Ma qui Sembra Come dire Che voglio Arruffianarmi E invece C'è qualche cosa Che anche io Lamento Ci sono stati Nel passato Dei momenti Mi riferisco in particolare Al periodo a cavallo Del giubileo Del 2000 Nei quali Il dialogo La curiosità Reciproca La voglia Di incontrarsi E di mettersi Nei panni Degli altri Come dicevo prima Erano intensissimi Superando anche Difficoltà E ostacoli reali Ricordo ad esempio Ero direttore Del TG1 In quel momento Che non era assolutamente Facile gestire Una patata bollente Come il gay pride A Roma Ma Ci si voleva Intendere Sono Poi Trascorsi gli anni E c'è stato Secondo me Un decennio Nel quale Lo spirito Identitario Il bisogno Di definire Grazie anche A degli steccati La propria Differenza Per il timore Forse appunto Di Veder Disperdere Il proprio patrimonio Hanno un po' Raffreddato Questo Dialogo Che Ha senso Soltanto se ti rimetti In discussione Se tu parli con un altro Non per spiegargli Come la pensi E basta Ma Disposto a essere Cambiato Dalla relazione Con l'altro Questo tra Ebraismo E chiesa Cattolica Negli ultimi anni È diventato Un po' più difficile Dopo tanti passi avanti Che per fortuna Si sono fatti C'è Un ottimo Rapporto diplomatico C'è un'intenzione Di amicizia Ma poi ci si è fermati Un po' così Poi da parte tua C'è anche la collaborazione A Negrizia per esempio Questo è il giornale A cui collaboro Da più tempo E ne vado molto orgoglioso Sì Sono parecchi anni Mi sembra che Il professor Montuschi Abbiamo Moltissimo Io ho raccolto Dei dati Oddio Tutti quegli appunti Non sono capi D'accusa Sono gli elementi Caratterizzanti Della sua strada Che è cominciato Con una cosa Molto bella Conquistare una lingua E conquistare una patria Credo che questo Anche senza commenti Sia un punto interessante Perché la lingua e la patria Sono una casa della persona Dove si trova sempre bene E averla conquistata Sia sempre una meta importante Ci sono tante cose Che lei dice In sordina Sono stato un giornalista Per caso Per caso Sono arrivate alla tv A cui aggiunge Altri elementi In tono minore Il vecchietto Di 57 anni Tutti quelli Che ne hanno di più Diranno Che il problema Forse è eccessivo E poi Aggiunge anche Qualche Cos'altro Ha detto tre volte Sono spigoloso E antipatico Io credo che Non c'è bisogno Di farsi la pubblicità In negativo Già basta Quella che c'è In circolazione E a questo Si aggiunge Anche Quello che non abbiamo Approfondito I tanti errori Che ho fatto E poi E poi Si aggiunge Questo Tenersi Sottotono E l'è stato pure Rimproverato Di essere Di mettersi in pubblico Addirittura Superbia E impudicizia Io credo Che questo Mettersi in pubblico Sia il segno Del coraggio Quello Quello cioè Che poi Ha attraversato Tutto quello Che ha raccontato Nella sua Nei suoi passaggi Nel suo Abbandonare I primi scritti Che sono sì Cominciati con la Radiocronaca In bagno Ma hanno avuto Hanno seguito La sua vita Non è la professione Che lei ha inseguito È La professione Che ha seguito Che ha inseguito lei Cioè Si è imposta Sulla sua vita E Questo forse È il caso Il fatto Di essere stato Catturato dalla professione Ma lei è stato coerente Cioè Non ha concesso Nulla E L'idea del coraggio Rassicurato Dalle persone Che le stanno intorno Cioè L'idea Di avere un progetto L'amore Per la famiglia Sono tutte le cose Che Quella Apparente Svalutazione Viene invece Arrecchita Da questo coraggio Che solo Chi ha Questo coraggio Può parlare Di sé In questo modo Se no Tutto il resto È difesa Copertura È Mettere I tamponi Laddove gli altri Possono mettere Il naso Rimane Questa paura Di essere detestato Io credo Che sia L'ultimo gradino Che può buttare È in fondo È un'opinione Degli altri E di conseguenza Nessuno Ci può cambiare Se no Non gli diamo Questo diritto E allora Questo è il gradino Ultimo Di quella Che lei Presenta Come una Socialità Compiuta Voglio mettermi Nei panni Degli altri Io l'ho sentito Dire raramente Tutto questo Perché mettersi Nei panni Degli altri Non solo È scomodo Ma Dà come l'idea Di dover abbandonare I propri E nessuno Lo vuole fare Non solo Di questi tempi Ma Proprio per istinto Di conservazione E per eccesso Di egocentrismo Rispetto Falso Di sé Mentre questo Dovrebbe essere Il vero messaggio Di chi Vuole Socializzare O comunque Stabilire un rapporto Da cui rischia Di avere Un arricchimento E quindi Un cambiamento E Il coraggio È stato Dimostrato In tanti momenti Anche difficili Perché c'era sempre Qualcosa in più C'era sempre La lotta Fra la convenienza E la coerenza La coerenza Ha sempre vinto Sulla convenienza Questo è il coraggio Il coraggio Di chi sa mettersi Nei panni degli altri Ma rimanendo Nei propri panni Si vede che ci sta bene Nei suoi panni E in fondo Io credo Che ci sia Un'altra dote A cui può fare riferimento Il divertirsi Se si è accorto Si è divertito Anche qui Ah non c'è dubbio E questo è L'elemento Che carica La mente Oltre che I comportamenti Le emozioni Cioè È come una motivazione In più Che ci arricchisce Una Ci arricchisce Insieme A quelle certezze Per esempio L'amicizia Certezza Della lealtà Mi sono divertito A stanare Quell'orso Di Graziano Ma anche Si è divertito Ad essere Espressivo In tutti i momenti Che gli altri Avrebbero potuto Giudicare E questo è Il divertimento Che può Superare La razionalità In quei momenti Di calcolo Dove tutto deve Essere a proprio Vantaggio Una delle cose Interessanti Nella sua Analisi Dei rapporti E della famiglia L'istinto Non basta È necessario Dirsi le difficoltà Questo è Mettersi Nei panni Degli altri Ma anche Con il coraggio Scomodo Di non lasciare Che Il tempo Passi E non abbiamo Più il tempo Per poterle dire Credo che Il messaggio Del suo libro Di lasciare Ai figli Una memoria Sia poi Concentrato In questo Non aspettate Non aspettate Mai Non solo Che il giorno Passi Ma che L'occasione Il momento Giusto Risolve I problemi Molto meglio Che dopo Dove dobbiamo Ricominciare Tutto da capo E tutto diventa Razionale Impossibile Contrattuale Sindacale Non se ne viene fuori Tutto questo Mi sembra di dire Che Il suo percorso È stato Un percorso Di vita Che ha Preceduto Il percorso Della professione E la professione È venuta fuori Leale Perché leale È il percorso Di vita Grazie Grazie Troppo buono Noi Ti ringraziamo Tantissimo Innanzitutto Perché hai Accettato Di partecipare Alla nostra Trasmissione E anche Per quello Che ci hai detto E per la testimonianza Diretta Che ci hai dato Grazie davvero a voi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti